E che c'hanno i cannoni da Navarone questi? A Calabrese! Che cazzo spari a Calabrese? Sormannezza! Te devo parlare! E allora? E allora non parte i coglioni, vengo giù e te lo spiego! Figliacca, assassino! Buttala, pistola! Buttala! Come sei impulsivo! Te impulsivisci e quando te impulsi qua si capisce più cazzo! Questo e' un locale privato, bisogna essere soci per entrare! Alino, guarda un po' come fa armonnezza perché un giorno te potrebbe pure servire! A Burghiba, noi volemmo sapere soltanto dove e' la donna dei Brescianelli! Abbiate più dare, lasciate Camilla! E' in pericolo di vita, entro stasera deve essere riportata in clinica! Vi assicuro che farò di tutto per... Pronto? Chiamo Roma 2, chiamo Roma 2, mi sentite Roma 2? No, era una pecora, ma adesso so' io, dimmi! Buongiorno, si è allodato Gesù Cristo! Si è allodata pure l'anima degli mortacci tua! Ma monnezza, non scherzare! Guarda che quello ha rapito una ragazzina che c'è i reni malati e se noi non arrivamo un tempo, quello mori, hai capito? Mori! Beh, chi se ne frega! Ma la rifai con la faccetta? Guarda che faccia! Grazie a tutti. Grazie a tutti.